Numeri straordinari quelli di Emanuele Castorani alla sua prima vera stagione tra i pro con la maglia della Virtus Francaville e il centrocampista originario di Cecina ha dimostrato di essere un calciatore sul quale puntare nel breve ma soprattutto nel lungo periodo appena 21 anni, tanti centimetri e fisicità ma soprattutto tecnica e questo Emanuele Castorani è l'ennesimo giovane alla ribalta grazie alle intuizioni del club biancazzurro da sempre attento alla ricerca e valorizzazione dei giovani calciatori arrivato a parametro zero nel gennaio del 2020 si mise in mostra sin da subito anche se la pandemia e il conseguente blocco dei campionati non gli consentì di esprimersi al meglio è stata questa invece la sua vera e propria stagione che lo ha portato alla ribalta 33 presenze in campionato condite da ben 6 gol, tutti molto pesanti numeri importanti per chiunque, specie per un giovane 21enne la sua prima esperienza nel calcio dei grandi il Francavilla però già da qualche anno ci aveva visto lungo tanto da contrattualizzarlo sino al 2022 adesso però ha diversi stimatori soprattutto nel campionato cadetto tra cui il Venezia in piena corsa playoff su di lui però ci sarebbe anche la regina casa di un altro ex Francavilla che in quest'ultimo campionato ha sorpreso tutti ovvero Michael Foruncio in ogni caso però la società non vorrebbe lasciarlo andare ma anzi valorizzare ancora di più con la maglia della Virtus Francavilla in ogni caso